Benvenuti ai telespettatori del Fatto, della nostra rubrica quotidiana, che oggi ha un incontro. Un incontro con la consigliera regionale Sara Marcozzi, ex Movimento 5 Stelle, oggi Insieme per il Futuro. Con lei cercheremo di capire intanto anche le motivazioni, le ragioni, i sentimenti che hanno portato a questa scelta e un po' più in generale quello che sta accadendo al Movimento 5 Stelle o a Insieme per il Futuro, con anche lo scenario ovviamente nazionale, con le tensioni che ci sono nel governo e con, tra l'altro possiamo anche anticipare della visita in Abruzzo di Luigi Di Maio, del ministro degli esteri. Ovviamente si parlerà anche nell'occasione della questione dell'Ucraina che davvero è di grandissima attualità, anche se ne abbiamo un po', ce ne siamo un po' scordati dell'Ucraina, però esiste e è lì, finché questa guerra non troverà una soluzione, purtroppo dovremo e avremo il dovere di continuare a parlarne. Però io vorrei cominciare da qui con Sara Marcozzi. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato, sin dall'inizio, un insieme di unità anche variegate di persone di varia provenienza. Uno vale uno, ma ciascuno aveva il suo. Però sono riuscite a trovare queste persone, o anzi questi cittadini, le ragioni per stare insieme e per lottare, per le ragioni per le quali hanno deciso di costituirsi come movimento. Poi questo movimento, un po' come tanti partiti italiani, ha vissuto il travaglio della scissione. Io mi chiedevo, ma questa è una riflessione più generale che riguarda non solo il movimento, ma appunto le ragioni per cui grandi, anche compagini, grandi partiti, a un certo punto si scindono, si dividono, come se non si riuscisse più a trovare in un solo partito e in quel partito la propria identità politica. Secondo lei perché? Perché siamo tutti più egoisti. Grazie per l'invito. Sono molto contenta di avere modo, insomma, di spiegare anche quello che è successo. Io credo in generale, una riflessione in generale che vale per tutti, non solo per il Movimento 5 Stelle, in partiti, movimenti politici che nascono, come dire, sulle basi di una non ideologia. Il Movimento 5 Stelle ha attratto persone che in precedenza votavano destra, sinistra, centro, qualunque partito, con un obiettivo diverso, cioè finalizzato su determinati temi. Ha funzionato fino a quando poi quei temi sono stati affrontati, penso per esempio al reddito di cittadinanza, quando si è dovuto fare un passo in più e cioè cominciare ad affrontare dei temi che magari non erano stati alla base di quell'unione di intenti, non avendo un luogo, perché il Movimento 5 Stelle non ce l'ha ad oggi, tutt'ora e questo è uno dei motivi che mi hanno portato, come dire, a questa scelta sofferta di lasciare il Movimento 5 Stelle dopo dieci anni. Quando tutte queste identità diverse non hanno un luogo di confronto per fare una sintesi e affrontare nuove questioni, come dire, c'è questa necessità di decisione, una sorta di decisione forzata, perché non si riesce a trovare la sintesi, non essendoci appunto la possibilità di confrontarsi, di confrontare varie opinioni. Oggi nel Movimento 5 Stelle si è visto insomma con la vicenda di Luigi Di Maio e tutti gli attacchi che gli sono arrivati dall'interno soltanto perché ha sollevato delle questioni, nel Movimento 5 Stelle purtroppo non c'è la possibilità di confrontarsi. Tutto questo come si inserisce, se riesce ad inserirsi in un sistema maggioritario, questa invece tendenza alle spaccature e alle scissioni? È complesso, è complesso, è il problema più grande, come dire, quando si ha tutta questa frammentazione il sistema ideale sarebbe un proporzionale, per cui è complesso, insomma. Ma al di là, come dire, del sistema maggioritario e proporzionale, io credo che il più grande problema in questo momento è che il Movimento 5 Stelle non riesca ad intercettare i bisogni dei cittadini. Mi ci metto dentro anch'io, fino a un periodo fa ci si è rovellati su quale fosse la leadership migliore, quali fossero, come dire, questioni interne da risolvere, ma in realtà gli italiani e gli abruzzesi sono interessati ad altro, interessano, come dire, che le bollette non salgano più di tanto, che la guerra in Ucraina non ci crei una crisi economica straordinaria, che la recrudescenza della pandemia non ci porti con gli ospedali pieni o un nuovo lockdown. Insomma, gli interessi degli italiani e degli abruzzesi sono questi in questo momento. Mi dispiace che il Movimento 5 Stelle sia ancora fermo, come dire, a combattere questioni di leadership interne. Arriveremo, arriviamo fra poco, fra un attimo, alle ragioni appunto che poi hanno portato Sara Marcozzi a lasciare il Movimento e ad aderire a quello di Luigi Di Maio, ma per chiudere questo discorso, diciamo, l'arrivo di Conte forse non è mai stato vissuto come un uomo, come un'incarnazione del Movimento 5 Stelle per quanto fosse di riferimento, oppure c'è altro? Io non credo che il Presidente Conte sia stato accolto, come dire, da tutti con grande entusiasmo. Io credo che Giuseppe Conte abbia svolto, ad esempio, i suoi mandati da Presidente del Consiglio egregiamente. Nel momento in cui invece è diventato capo politico, io perlomeno ho assistito, e tanti come me, Sì, no, parlavo infatti come capo politico, non come Presidente del Consiglio. Come capo politico, no, ma per dire che la fiducia inizialmente era massima, anche come capo politico. A deluso? Sì, io posso dire di sì, un po' a deluso, perché invece di unire, come dire, è riuscito a spaccare queste anime interne del Movimento 5 Stelle, perché? Perché ha tentato, come dire, di imporre il suo pensiero, e tutte le persone che lo hanno consigliato, che gli sono intorno, hanno tentato di imporre comunque il pensiero del capo e non lo hanno mai contraddetto, inibendo qualunque tipo di confronto all'interno del Movimento 5 Stelle e la scissione è stata, come dire, una conseguenza naturale. Quanto vi ha, e parlo all'ex Movimento 5 Stelle, quanto vi ha condizionato, per non dire contaminato, per non dire sporcato, l'essere arrivati al governo, comunque aver lasciato la scapigliatura dei primi tempi, quella in cui a noi giornalisti ci cacciavano proprio dai luoghi, dalle conferenze stampa, dalle assemblee, no, dalle assemblee, dalle riunioni proprio venivano cacciati in malo modo, ovviamente poi c'è stata una riflessione, ma si capisce, quello era l'inizio di un Movimento e dunque c'era anche questa, che ho definito scapigliatura, anche se poi, insomma, credo che anche voi sappiate quanto sia importante la libertà di stampa per la libertà dei cittadini. Allora, io personalmente non sono mai stata una talebana, si diceva anche talebani, no? Però c'è stato comunque questo passaggio, questa sorta di evoluzione, da partito appunto di ribellione a partito di governo o potenzialmente di governo. Assolutamente sì, fisiologica, nel senso che nel momento in cui una nuova forza politica, per quanto sia reazionaria, per quanto sia movimentista e non sia un partito strutturato, incardinato sul territorio, va al governo, è evidente che intanto prende meglio le misure su quello che si può fare, quello che non si può fare, quello che si è detto bene, quello che forse si è sbagliato a dire, e si diventa più realisti, e come dire, ci si prende la responsabilità di governare, per cui è una cosa diversa, e prendendosi la responsabilità di governare è anche fisiologico, come dire che ci sia un calo dei consensi, questo avviene sempre, è avvenuto a tutti. Altra cosa però è, come dire, assistere ad un ulteriore calo di consensi, come sta avvenendo nell'ultimo periodo, perché appunto si perde più tempo a parlare di beghe interne, non so se lei ha visto la, come dire, la quotidiana, il quotidiano bombardamento di agenzie nazionali, di queste truppe cammellate che commentano di Maio, dice una cosa, parte la batteria, insomma, dovremmo essere impegnati, come dire. Arriviamoci allora, perché abbiamo ancora poco tempo, perché Sara Marcozzi, non da subitissimo evidentemente si è presa anche qualche giorno per riflettere, diciamo, ma a un certo punto ha comunicato ufficialmente di passare insieme per il futuro, e quindi di sposare al momento la causa di Di Maio. Perché? Perché non subito, perché Di Maio. No, perché Di Maio. Non subito immagino sia una riflessione fisiologica. Luigi Di Maio è una persona che io ho conosciuto dieci anni fa, quasi, che in dieci anni non ha mai smesso di lavorare, ha sempre lavorato per il Movimento 5 Stelle, ha sempre lavorato per il gruppo e per un gruppo di persone, si è sempre fatto carico di responsabilità gravose, si è anche preso la colpa tante volte, come dire, di cose non commesse da lui per sgravare altri di responsabilità, è una persona che oggi ha, come dire, maturato un'esperienza di governo che mi permette di dire di fidarmi di Luigi Di Maio per il passato, per il presente e per quello che vorrà costruire. L'Abruzzo deve molto a Luigi Di Maio. Io ogni volta che, come dire, ho segnalato negli anni una questione, Luigi Di Maio è venuto in Abruzzo da Vice Presidente della Camera, Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro degli Esteri, verrà appunto nelle prossime ore, per cui è una persona della quale ci si può fidare. Quello che mi ha insegnato questa esperienza politica, io ho cominciato a fare politica con il Movimento 5 Stelle. Prima seguivo la politica, la seguo da quando ero ragazzina, ma insomma l'ho fatta in prima persona solo con il Movimento 5 Stelle. Ho impiegato un po' di tempo a comunicarlo, perché è stato emotivamente difficile. Immagino, certo. Ovviamente, io ho cominciato a stampare, non so se si ricorda quando abbiamo iniziato, noi veramente ci stampavamo i volantini in studio, a casa, per cui per me lasciare una realtà così, che in Abruzzo ho materialmente contribuito a costruire, è stata ovviamente una decisione sofferta. Ma credo, e ho imparato dopo dieci anni, che la buona politica non la fanno i simboli, non è una questione di fede, ma la fanno uomini e donne di buona volontà, che si mettono sotto a lavorare e che tentano di risolvere dei problemi nelle piccole realtà che possono essere comuni in regioni o a livello nazionale. E credo che Luigi Di Maio lo abbia fatto e lo stia facendo. Allora, l'ultimo passaggio, e l'ho lasciata per ultimo perché è anche una questione spiacevole, nel senso che Sara Marcozzi ha segnalato, esternato delle reazioni, il commento a quanto accaduto per un'inchiesta che riguarda l'arrivo del Napoli, il ritiro a Roccaraso, adesso non entro nel merito della cosa, però, giustamente, argomento tirato fuori dal movimento, da Sara Marcozzi, oggi, insieme per il futuro, si è tirata dietro anche, oltre a messaggi di approvazione, anche una marea di critiche, ma critiche brutte, non le famose critiche costruttive. Diciamo pure insulti. Sì, sì, diciamolo. Secondo lei, perché? Cosa c'è? Quanto di questo è attribuibile a persone che, diciamo così, in maniera piuttosto colorita e autentica, la criticano, o invece qualche pilota dietro? Beh, allora, un po' è il mood dei social media, quello dell'insulto. I cosiddetti leoni da tastiera, io sono dietro uno schermo, quindi non mi vede nessuno, sostanzialmente, penso di poter scrivere tutto quello che mi passa per la testa. Un po' è, ovviamente, frutto di una sorta di campagna denigratoria di alcuni attuali, anche portavoce del Movimento 5 Stelle, che, come dire, con questo refrain dei traditori, 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 spingono un po' le persone ad offendere e insultare, ma la cosa triste, francamente, è che gli insulti peggiori sono quelli sessisti alla donna e non al personaggio politico, alla scelta giusta, sbagliata. Cioè, se la scelta sua, come, anzi, l'hanno fatta anche altri, hanno preso lo stesso tipo di insulti. Va bene tutto, insomma, non si può essere tutti d'accordo sulla stessa cosa. No, però, si può essere d'accordo sugli insulti, sulla tipologia. Sulla tipologia di insulto, se uno ti dice una determinata cosa, quello è oggettivamente un insulto, ed è oggettivamente un insulto sessista, purtroppo molto spesso, la cosa triste è che molto spesso i peggiori insulti provengano proprio da delle donne. Sì. E questa è una cosa che fa male, più dell'insulto in valore assoluto. E quindi, come dire, torniamo a dirci per l'ennesima volta che c'è evidentemente anche un problema culturale al di là di chi fomenta, come dire, per scopi di partito, una piccola o grande guerra, ma c'è una questione culturale che va ancora affrontata. E c'è ancora parecchio da fare. Eh, tantissimo. Si finirà mai. Tantissimo. Va bene, credo che il nostro tempo è a disposizione per questa breve chiacchierata con Sara Marcozzi, consiglia regionale in Abruzzo per Insieme per il Futuro, debba volgere al termine. Insomma, di bocca al lupo ci arriva, arriva per tutti, quelli che fanno politica, che ne hanno bisogno. Grazie mille, continueremo a lavorare per gli abruzzesi.